Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale Oggi volevo farvi una guida volta alla scoperta di un accessorio beauty ormai noto sul web Tanti lo conoscono, tanti non sanno ancora cos'è E soprattutto a chi è indicato e quali sono i suoi prosi e contro Questo accessorio beauty me l'avete già visto utilizzare nel video precedente in cui effetto la pulizia del viso L'accessorio di cui sto parlando è l'aspiracomedoni, si presenta così Non ne ho mai visto uno in un negozio fisico ma si possono acquistare dappertutto nel web Il web appunto è pieno e il mio nello specifico l'ho acquistato su Amazon Il brand del mio prodotto è Heineken Questo prodotto qui ha una fascia di prezzo che varia dai 18 ai 30 euro Io ho acquistato quello un pochino più costoso in quanto presentava comunque maggiori vantaggi I vantaggi di questo prodotto, ora vi li dico Quello che ha il costo un pochino più elevato ha Anziché avere le pile, il pratico cavetto che quando finisce la batteria lo attacchiamo alla presa di corrente E abbiamo il dispositivo ancora carico Ha un piccolo schermo che ci indica il livello di batteria e il livello di suzione E soprattutto ha quattro testine intercambiabili Questa qui è quella che utilizzo maggiormente, è quella che ha il buchino un pochino più piccolino E serve per stimolare la microcircolazione della pelle E soprattutto per non arrossare troppo le pelli sensibili come la mia Dopodiché ho un'altra testina, le testine si tolgono così L'altra testina è per pelli mature e un po' problematiche E avendo questa forma qui riesce ad arrivare soprattutto nei punti un pochino più difficoltosi come qui e qui sotto L'altra testina è questa qui, quella un pochino più di impatto Che aspira un pochino meglio perché essendo così grande ha un'aspirazione maggiore E pulisce maggiormente appunto la pelle ma con il contro di arrostarla un po' E l'ultima testina è questa qui che ha questa specie di mattoncino qui Che aspira un pochino meno ma con movimenti circolari ha un'azione esfoliante per la pelle E quindi è indicato prima esfoliare un pochino la pelle E poi andarla a aspirare con un altro accessorio Dopodiché c'è questa specie di tappino con all'interno togliendolo un filtro Questo filtro io l'ho utilizzato a dispositivo, ce l'ho da tre mesi, l'ho utilizzato sei volte E il filtro risulta essere abbastanza pulito e non ho ancora avuto necessità di cambiarlo Se volessi cambiarlo nel packaging mi hanno dato questi filtrini che ne sono abbastanza Quindi ci vado avanti comunque per un bel pezzo Quindi metto la testina che scelgo Aziono A cinque livelli di potenza Come vi ho già detto nel video precedente utilizzo sempre quello a uno In quanto gli altri hanno una sozione abbastanza elevata Dopodiché quando ho fatto lo spengo Io lo passo soprattutto in questa zona qui Che è quella che in genere sia un pochino più grassa E sento comunque al tatto che la pelle risulta più pulita E più detersa Quasi compattata con il resto della pelle E' importante Prima di utilizzare questo accessorio beauty E comunque aprire bene i pori In maniera che l'azione sia più profonda E il grasso venga aspirato in maniera un po' Un po' più in profondità appunto Quindi pulendo meglio la pelle E in maniera un pochino più corretta E io lo utilizzo ogni tre settimane Non avendo una pelle comunque grassa Per chi avesse una pelle molto grassa Lo consiglio una volta a settimana Come è riportato nel manuale Che mi hanno dato all'interno E soprattutto io lo utilizzo durante la pulizia del viso Ma si può utilizzare anche Non avendo aperto i pori Ma comunque sia sarà meno evidente l'effetto E vi faccio vedere come si utilizza Date un'occhiata E vi dico subito Quali sono i suoi pro e quali sono i suoi contro Questo prodotto promette di togliere i punti neri Schiacciare i brufoli E aspirare tutto il grasso della faccia E' vero sì e no Se volete acquistarlo Perché magari volete togliere i punti neri Anche belli grossi Anche belli evidenti Vi dico da subito Che questo prodotto non va Non toglie nessun punto nero Non schiaccia nessun brufolo I punti neri Anche quelli più evidenti Più grandi Che stanno lì per uscire Non vi usciranno Se non con la spremitura manuale E quindi per quello non è valido Però comunque funziona Perché quando io me lo passo E vi ripeto non ho una pelle particolarmente grassa All'interno della testina Comunque lo vedo del grasso Vedo quasi dell'olio Diciamo Quindi funziona Perché aspirare aspira La pelle la sento al tatto Meno grassa Quindi se volete acquistare questo prodotto Per togliervi i punti neri Senza la spremitura manuale Lasciate perdere Perché i punti neri Non usciranno mai Però se lo volete comunque Utilizzare come tool in più Per una corretta pulizia del viso O comunque per togliere il grasso in eccesso Il prodotto è ben funzionante Quindi sta a voi la decisione Io lo consiglio soprattutto A quelle persone che hanno pelle Che ha la pelle grassa Non è un accessorio indispensabile Non è un accessorio indispensabile Per chi avesse una pelle mista O comunque normale E spero di avervi dato un chiarimento Riguardo al prodotto Spero di avervi fatto prendere una decisione Sull'acquisto o meno E soprattutto spero come sempre Che il video vi sia piaciuto Se così fosse un bel pollicione in su E per chi non fosse ancora iscritto Invito come sempre a iscrivervi E ci vediamo la settimana prossima Con un nuovissimo video Baci